Cos'è? Cos'è questo? Un mantello della frega forse? Un mantello, un mantello viola, c'è la fede qua a terra Che? Hai sollevato il martello di Thor? Ma sei così forte Claudia? No, no, non me lo suonare in testa, non me lo suonare, non me lo buttare in testa Claudia abbiamo una sorpresa, è arrivato qualcuno Federica Federica! Vito Family ve la ricordate Federica? Eccola qua Ok, Claudia, Federica è dietro questa porta, vuoi farle una sorpresa? Sì Ah, non ti devo nascondere Sorpresa, però, mettiti nell'armadio, mettiti nell'armadio, bravissima, bravissima Sei tu, Claudia, ok, sta arrivando Federica La faccio venire qua vicino Ci riesci? Sì Brava Ok, adesso facciamo uno scherzo a Federica, Claudia è nell'armadio e facciamo silenzio Eccoci qua, Fede! Cosa? Ciao, quando? Benvenuti dalla Litto House Eeeeeeeh Buonasera, piacere, allora lei è Claudia e lei è Federica Piacere Piacere Si dice Buonjour Buonjour Invece Saluto Ciao Si dice saluto Saluto E se stanno dissi che ti devo dire la salute Aciu Aciu Buonjour Guario è incantato Vitto Family, ho visto qualcosa di strano, ho visto qualcosa di strano lì Questo quanto Forse è il mio Forse è il mio Ma Fede è troppo grande Io lo so di chi è, io lo so di chi è Di chi è? Forse è del clown È del clown Sì credo di sì Non lo so, ma è troppo, è troppo grande Eeeh Non me lo va a dare in faccia Fede Ma aspetta Questo quanto non vi ricorda qualcuno? Il guantoschi Che c'è nel guantoschi? Il guantoschi cantatoschi Guarda c'è un biglietto dentro al guantoschi Guarda c'è un biglietto dentro al guantoschi C'è un biglietto nel guantoschi Guarda e bene Cosa c'è scritto? Ehi Con Controll Controllate Nel salone Qualcosa di strano C'è qualcosa di strano nel salone C'è qualcosa di strano C'è qualcosa di strano Non è la pipì di vera C'è qualcosa di strano nel salone Ma quello è il giocattolino di vera? La bacchetta Non è bravo Non è la bacchetta Bacchetta magica è mia No Federica dammi la bacchetta magica Federica dammi la bacchetta Dove scappi Fede? Fede dammi la bacchetta No No Dammi la bacchetta No Dammela Tieni Che hai trovato? Un altro biglietto Ho trovato un biglietto? Con un altro guanto C'è un altro guanto Un altro guanto Un altro guanto Non è il tuo guanto Cosa c'è scritto questo bietto? Sono Sono verde E ho due occhi È normale Tutti hanno due occhi Sì È vero che tutti hanno due occhi Ma non tutti quanti sono verdi Allora Chi è verde? La strega La strega Non può essere Perché abbiamo trovato questo allora? Allora Allora dammi la bacchetta Ragazzi secondo voi è la strega? Allora alzi la mano chi pensa che sia la strega È la strega C'è la strega in casa Ma la strega Federica Claudia La strega non può essere perché la strega non indossa i guanti La leno E la leno C'è le mani giganti Non può essere Sono io La mattina quando mi vede È Federica Secondo te Claudia chi c'è dietro tutto questo? La strega La strega La strega Cercate qualche altro indizio magari Ma se una cosa Se uniamo tutti gli indizi Cosa succede se li uniamo? Beh Dobbiamo cercare qualcosa che è verde e che ha due occhi Vedete che stefan c'è Vediamo Vedete bene Il dinosauro Il dinosauro è verde e ha due occhi In effetti è vero Il dinosauro è verde Il dinosauro è gigante che ci vuole abbassare Nooo Io sono coraggiosa Perciò io Aspetta Claudia Adesso facciamo gioco di squadra Io E fai bene Ok Federica è la telecamera Mi raccomando non sbagliare Una cosa devi fare Riprendere Solo quello Allora controlliamo se è il dinosauro Uno Due Tre Uno Due Tre E Claudia Prende il dinosauro Ciao Oh Ok Ok Uh Sei pesantissima Claudia Oh Vedi se c'è qualcosa del dinosauro C'è l'etichetta C'è l'etichetta C'è l'etichetta Un'etichetta misteriosa Si 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 No Mi sa che non è il T-Rex l'inizio che stavo cercando Ma questo qua è verde però ha tre occhi e invece dobbiamo trovare una cosa verde che ha due Ma questo è verde, questo ti sembra verde, questo è verde secondo te Fede, questo è verde questo, è vero quello è verde, ha due occhi, ehi guarda nella terra, sono molto intelligente, sono molto intelligente, sono mortissima io, Fede ma sei un genio, ma come fai? Eh, sono proprio intelligente, lo dice anche di cose, dobbiamo leggere l'ultimo indizio, questo indizio lo voglio leggere, dammi l'indizio, dammi l'indizio, dammi l'indizio, dammi l'indizio, dammi l'indizio, no l'hai strappato, la nostra unica speranza per arrivare alla soluzione è stata strappata da Claudia Cosa? Federica sta guardando il film di noi due che ci picchiamo No questo è mio, è mio, è mio Aiutatemi 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 Sono pristolletico Sono pristolletico Claudio basta, mi arrendo, mi arrendo, mi arrendo, ti do l'indizio, però aspetta, levati No Dai Claudia, Vittorio si arrende, Vittorio si arrende, Vittorio si arrende, però ti dà l'indizio Ok, sono rimasto incastrato Aiuto Adesso leggiamo l'ultimo indizio che abbiamo trovato Lo leggo io, allora Aiuto Oh beh, non sei pazza Oh, tu sei pazza Fede Io, io non sto facendo niente Sto giocando con questo E adesso, già che stai giocando con questo coso sei pazza, capito? Perché nessuno è normale giocando Ottimo È della videocamera Ah, hai chiuso Dai, io Va bene, te lo do Cos'è? Cos'è questo? Un mantello della sega forse Un mantello, un mantello viola, c'è la Fede qua a terra E che ci fa via qua? Non lo so Posso dire una cosa? Posso dire una cosa? Cosa? Che tu dormi ancora con Piar Non è vero, io non dormo ancora con Piar Non è vero No Io, Vittorio, sono cresciuto Non dormo più con i pupazzetti piccolini piccolini della mamma In realtà sì, voglio Piar Tieni Piar Non me lo lanciare addosso però Ecco, tieni Mi spettino i capelli Oh, scusa, ha spettinato i capelli Dio No Questa è Claudia Questa è Claudia Questa è Claudia Questa è Claudia Ma Claudia non è gialla E non sono mini Magari è Vittorio No, io non so Allora, chiudi anche la bocca Fede sei impazzita Ti fa ridere Eccolo Iuto Ho fame Io credo che non ho fatto un colazzo Ma hanno chiuso la porta Io non ho fatto colazione Non ho fame Non hai fatto colazione? Sì Io non ho fatto nulla Leggiamo ultimi indizi Trovate i poppits nascosti Trovate i poppits nascosti Sanchi I poppits dovevo trovare VittoFamily dobbiamo trovare i poppits nascosti Ma questo nel prossimo episodio Ciao Ciao Da Vittorio E da Claudia E da Federica E da Federica E da Federica